Ciao ragazzi, sono Emiliano e nel video di oggi vi parlerò di batterie. Ma stavolta non parlerò delle batterie a litio come normalmente faccio. Non vi parlerò neanche dei supercondensatori, che sono appunto le ultime batterie che stanno uscendo sul mercato. Anzi, se non avete visto il video, andate a vedere, vi metto qua il link perché sono veramente interessanti. Ma oggi vi parlerò di batterie AGM. Vi starete chiedendo come mai parla delle AGM, che ormai sono batterie che per molti dicono stanno iniziando a morire. No, non è vero, non stanno iniziando a morire. Sono delle batterie che vengono ancora attualmente usate tanto da parecchie persone perché non hanno l'esigenza di utilizzare delle batterie più performanti come sono quelle a litio. Per il loro modo di utilizzare il camper vanno benissimo le AGM, solo che vi voglio parlare di queste batterie per il semplice fatto che, come sapete, ho attivato un servizio online di consulenza e assistenza tecnica. Alcuni di questi clienti che si stanno appoggiando appunto a me per questo servizio mi stanno chiedendo come mai le batterie non hanno più le prestazioni, non hanno più la qualità, non hanno più la durata che avevano fino a qualche anno fa. Mi stanno tutti chiedendo perché adesso dopo due, tre anni le batterie AGM iniziano a non funzionare più, non erogano più la corrente che dovrebbero erogare, le batterie diventano gonfie, non hanno più possibilità di utilizzarle e questo praticamente crea dei grossi problemi perché dopo due o tre anni queste batterie non vanno più, ovviamente la spesa è stata fatta, anche se su una AGM comunque si spendono un po' di soldi e di conseguenza il problema c'è. Dopo un breve colloquio che ho con questi clienti, mi accorgo che alla fine il problema non è come pensano loro sul discorso le batterie non hanno più la qualità di una volta, ma il problema diventa su come è stato realizzato l'impianto e su come vengono utilizzate le batterie AGM. Quindi il video di oggi sarà proprio dedicato a questo, al fatto che le batterie AGM non è vero che non hanno più la qualità di una volta, ma se vi durano due o tre anni e poi le dovete cambiare, probabilmente avete voi dei problemi sul vostro impianto e le state usando male. Quindi partiamo subito col video e vi vado a spiegare, facendovi vedere anche le caratteristiche di alcune batterie AGM, proprio per spiegarvi un pochino meglio e darvi la possibilità di capire e comprendere bene il motivo per cui queste batterie non funzionano più così tanti anni come funzionavano invece una volta. Partiamo subito dicendo che le batterie AGM sono batterie ad acido con dentro praticamente delle piastre di piombo, dove sopra queste piastre scorre la corrente e a secondo dello spessore delle piastre che ha, sono o batterie per avviamento, quindi batterie dove hanno bisogno di erogare tantissime ampere in pochissimo tempo, ma la durata è limitata, oppure le classiche batterie, come ogni tanto sentite parlare, a scarica lenta, quindi batterie che erogano meno ampere in una sola volta, quindi nel momento in cui vado ad attaccare e fare la richiesta, però mi durano molto di più nel tempo. Quest'ultima versione è praticamente quella che ci serve a noi come batteria dei servizi, per poter dare corrente alla nostra cellula, far andare il frigorifero, far andare le luci, far andare la pompa dell'acqua e via dicendo. Cerchiamo di capire sull'etichetta della batteria che cosa c'è scritto per arrivare poi a capire il perché la batteria non mi funziona. Adesso ho preso come esempio una batteria che probabilmente tutti conoscerete, ma non sto dicendo che ha dei problemi che non ha dei problemi, è semplicemente perché penso che sia una tra le più famose, quella dell'NDS, la Green Power, ed è forse quella che nella maggior parte dei camper sono installate. Andiamo proprio sul sito dell'NDS e vi faccio vedere, spiegandovi sulle caratteristiche tecniche, come funzionano queste batterie. Come potete vedere siamo sul sito quello NDS ufficiale, sono già andato dentro nella parte della Green Power. Se vado a scorrere verso il basso, dentro nella parte caratteristiche tecniche, mi vado a prendere la batteria che andremo a prendere in esame noi. Adesso io prendo come riferimento questo modello che si chiama GP100B di Bologna, che non sarebbe altro che la classica 100A, la B sta per bassa, quindi ribassata. Sono normalmente le batterie che vengono installate sotto i sedili del Ducato. Prendo in esame questa, ma più che altro perché è una delle più classiche che si trova all'interno del veicolo, ed è una di quelle che ultimamente mi stanno dicendo abbiamo problemi. Andiamo a vedere la descrizione. È una 12V ed è come capacità una 100A. Come vedete sotto qui dove c'è scritto capacità 20 ore, mi dà 100A. Cosa vuol dire? Che lui nell'arco delle 20 ore mi può far scaricare 100A. Se io vado a fare un calcolo matematico stupidissimo, faccio 100 diviso 20, mi dice 5. Vuol dire che io se consumo 5A all'ora, in 20 ore ho consumato la mia batteria. Se vado avanti mi troverò sotto la colonna capacità 10 ore, il 90 vuol dire che se io vado a richiedere di più alla mia batteria e la scarico in 10 ore, posso arrivare 90 diviso 10 a 9A. Andiamo oltre e trovo capacità 5 ore. In questo caso mi dice 85A. Se io vado a fare il calcolo 85 diviso 5, mi dice 17. In questo caso mi fa capire che se io vado a consumare 17A in 5 ore, lui mi arriva a scaricare completamente la batteria. Perché in questo caso gli A che mi vengono forniti tendono a diminuire, perché io sto scaricando molto più velocemente la batteria. Adesso non entriamo nel discorso del perché diminuiscono scaricando più velocemente di qua di là. È solo un discorso dato da resistenza, dal fatto che più io vado a scaricare velocemente, più si crea calore all'interno, quindi mi crea tutta una sorta di resistenza e via dicendo. Lasciamo perdere se no entriamo dentro in discorsi un po' troppo tecnici. Quindi in sostanza io più vado ad aumentare gli A di scarica, più la mia batteria tende a darmene meno. E appunto come vediamo nel grafico, lui si ferma a 5 ore. In realtà potrebbe darmi magari anche quella di un'ora, dove vedrete che gli Ampere salgono ancora di qualcosina, ma non di tanto. Perché non danno altre caratteristiche su questo assorbimento? Per il semplice fatto che le batterie, come dice proprio la parola, a scarica lenta, devono durare nel tempo. Quindi gli Ampere che vengono prelevati non possono essere altissimi. Adesso prendiamo un esempio appunto della capacità con le 5 ore, dove mi dice che può arrivare a scaricare 17 Ampere. Ipotizziamo anche di avere due batterie, come normalmente hanno la maggior parte dei clienti che mi hanno chiamato. Vuol dire che io, mettendo due batterie da 100 Ampere in parallelo, posso arrivare a scaricare 34 Ampere in 5 ore. Perché 17 da una batteria, 17 dall'altra, in 5 ore ne posso scaricare 34. Cosa succede? Perché queste batterie muoiono in questo modo? Per il semplice fatto che fino a qualche anno fa nessuno andava ad installare sui propri veicoli gli inverter. O perlomeno, se c'erano degli inverter presenti, erano sempre inverter di basso vattaggio. Quindi 400, 500, 700 in radicasi. Ma erano sempre inverter abbastanza piccoli, dove la corrente che si andava a prendere era magari per ricaricare il telefonino, piuttosto che un tablet, piuttosto che magari qualcuno lo usava per far andare la televisione a 220 Volt. Quindi Ampere abbastanza limitati. Adesso ultimamente esplosa la moda, chiamiamola così, degli inverter da 1500, 2000, 3000. Addirittura mi è capitato di vedere da un cliente un inverter da 5000 Watt. Ragazzi, 5 kilowatt. Cioè neanche a casa abbiamo un contatore da 5 kilowatt normalmente perché arrivano fino a 3 kilowatt. Quindi capite bene che io vado a installare degli inverter sul mio camper dove ho due batterie GM con dei vattaggi assurdi. Facciamo un piccolo conto. Metto su un inverter da 2000 Watt. Non li voglio usare tutti questi 2000 Watt. Ne vado a usare semplicemente 1500. Perché, come ho sentito dalla maggior parte di loro che mi hanno contattato, no, ma io non li uso spesso e, tra le altre cose, li uso per poco tempo. Un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, giusto per asciugare i capelli a mia moglie o a mia figlia o per asciugarmele io. Il phone mi consuma 1400-1500 Watt. Sì, però, giusto per qualche minuto. Stiamo parlando di circa un quarto d'ora, 20 minuti? Non è proprio qualche minuto. Andiamo a capire, 1500 Watt, quanti ampere stanno prelevando. Il calcolo è abbastanza semplice. Io devo fare 1500 Watt. Se fossero a 220 Watt, dovrei fare diviso 220. Quindi, in realtà, facendo il calcolo, 1500 Watt diviso 220, mi dà circa 6 A e qualcosina. 7 A, diciamo così. Che potrebbero sembrare pochissimi. Vabbè, ci siamo, sono 7 A. In realtà, no, ragazzi, non dovete farlo sulla 220. È vero che voi state fornendo la 220, ma la 220 Watt vi viene fornita dalle batterie a 12 Volt. Quindi, i 1500 Watt che andate a prelevare, li state prelevando dalle batterie a 12 Volt. Quindi, se andiamo a fare il calcolo, 1500 diviso 12, qua stiamo parlando di circa 125 A. 125 A. Quindi, considerate una cosa. Le mie due batterie AGM, dove prima mi stava dicendo in 5 ore posso scaricare 17 A, che per 2 sono 34. E, come vedete, se le vado a scaricare in 10 ore, passavo da 17, passavo a 9. Quanto posso salire? Arriviamo a 20, 30 A, che per 2 sono 60? Ragazzi, io ne sto scaricando 125. Vuol dire che io quelle batterie lì le sto stressando in una maniera paurosa. Gli sto scaricando tanti ampere, tutti in una sola volta, e questo alla batteria non piace. Perché non sono batterie fatte e studiate per scaricare così tanti ampere. Il problema del fatto che poi le batterie si gonfiano, iniziano a perdere la capacità di erogare corrente, perché internamente si danneggiano, è proprio cagionato dal fatto che sto andando a scaricare troppi ampere in una sola volta. Questo è il motivo principale per cui le batterie AGM non ce la fanno. E quindi vi durano 2, 3, 4 anni al massimo. Più voi le stressate con gli inverter grossi, più queste batterie vi dureranno meno. Motivo per cui, sulle batterie AGM, io sconsiglio sempre di mettere inverter di grossi vattaggi. Io e tutti i miei clienti, quando mi dicono, ho la AGM, posso mettere su l'inverter? No. Al massimo puoi mettere un inverter da 700 Watt. 1000 esagerando, ma non utilizzarli tutti. Ricordatevi anche un'altra cosa. Se io ho bisogno di 500 Watt, è inutile che vado a mettere un inverter da 2000. Perché l'inverter da 2000, se io lo accendo e lo lascio senza collegato niente, mi consuma molto di più rispetto all'inverter magari da 700. Che, se devo prelevare solo 500 Watt, mi vanno più che bene i 700 Watt di targhetta dell'inverter. Quindi è inutile andare a mettere anche degli inverter grossi, enormi, solo perché uno dice, se dovesse averne bisogno, no? Se dovesse averne bisogno non lo usi perché rischi di far fuori le batterie. Allora, a quel punto, se dovete utilizzare il phone, la piastra in induzione, come ho sentito anche qualcuno che lo fa, il microonde, ragazzi, le batterie AGM non vanno bene. Sono proprio le cose più sbagliate che potete fare. Se volete utilizzare degli inverter da 1500-2000 e utilizzare phone, piastra in induzione, microonde, il fornetto elettrico, tutto quello che volete, dove gli assorbimenti sono di un certo livello, dovete per forza di cose passare a degli impianti molto più performanti. Vi faccio un esempio abbastanza banale. Sulle barche a vela hanno dei pacchi batterie da 10, 12, 15 batterie messe tutte in parallelo, secco tra di loro, perché ovviamente hanno bisogno di attaccare degli inverter e avere la corrente. In questo caso, facendo dei pacchi batteria così grossi, gli inverter li rigestiscono. Però ragazzi, andate a chiedere a chi ha giù impianti del genere quanti anni durano. Quegli impianti lì, dopo due o tre anni, vengono smantellati, vengono buttate via le batterie e rimesse su batterie nuove. Perché mettendoli in parallelo secco così, due, tre, quattro anni al massimo, qualche batteria inizia a partire, perché iniziano a partire, come ne parte una, a raffica partono tutte. E quindi loro rimangono senza batterie. Questo è il motivo per cui si sta passando tanti agli impianti litio. Perché la batteria litio rispetto alla batteria GM ti dà la possibilità di scaricare tantissimi ampere senza avere problemi. Quindi, motivo principale perché le batterie si gonfino, perché le batterie cedono, non sono la scarsa qualità delle batterie ragazzi. Sono semplicemente i vostri impianti. Adesso mi piacerebbe sapere, tutti voi che avete le batterie GM, e che ogni due, tre anni, quattro anni, quello che sia, avete problemi, lasciatemi sotto un commento dicendomi se ho anch'io l'inverter così e lo uso cos'ha. Una cosa importante. Molti hanno l'inverter da 1500-2000 watt, sul due batterie magari a GM, però funzionano benissimo. Perché magari la usano sporadicamente per la macchinetta del caffè. La macchinetta del caffè ha un consumo di pochi minuti. Un consumo abbastanza elevato, ma è limitato nel tempo di pochi minuti. Quindi non ha grossi problematiche che va a creare alla batteria. Certo che se vi mettete a fare servizio bar e sparate fuori 40 caffè tutte le volte che accendete l'inverter per fare il caffè, mezzogiorno e sera, ragazzi anche in quel caso lì, no, le danneggiatele. Ma fino a che magari siete in camp per uno o due persone che bevono il caffè e ve lo fate magari una volta o due alla settimana quando uscite, non avete un grande danneggiamento. Con questo non sto dicendo che è corretto farlo. È sempre scorretto. Però probabilmente vi dureranno di più le batterie rispetto a uno che usa il phon, che usa l'induzione, che usa la piastra elettrica, piuttosto che il microonde e via dicendo. Proprio perché rispetto a queste altre utenze la macchinetta del caffè veramente si attacca, scalda l'acqua, ci mette magari quei 30 secondi, dopodiché riparta ancora per 10 secondi, poi si rispegne e nell'arco di un paio di minuti è tirato giù i tuoi due caffè ma non ha continuato a far funzionare il riscaldamento, quindi non ha continuato a scaricare tanti ampere una sola volta dalla batteria. È una cosa limitata in pochi secondi. Quindi è il motivo per cui magari chi ha la macchinetta del caffè dice no ma io la uso, mi durano 5-6 anni tranquillamente, non ho mai avuto problemi. Sì, il motivo è questo. Mi piacerebbe vedere proprio nei commenti per fare eventualmente una casistica e farvi vedere appunto tutti quelli che hanno problemi, che hanno riscontrato questi problemi proprio dato dal fatto dell'inverter troppo grossi. Penso di avervi spiegato il motivo abbastanza chiaramente. Se avete bisogno di farmi delle domande scrivetelo sotto nei commenti, risponderò sempre a tutti. Se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e se vorrete aiutarmi a sostenerlo potrete anche abbonarvi. Con una piccolissima spesa mi date un grande aiuto. Piccola spesa che potrete decidere in qualsiasi momento, perché è mensile, di interromperla. Quindi non avrete problemi da un mese con l'altro a interromperla. Ci vediamo al prossimo video, spero di essere stato utile. Ciao ragazzi!